Belli fa girare il pallone all'Olympic, attenzione a Catalano, potrebbe lanciare, cerca sempre il fraseggio basso invece la squadra di Pacino, attenzione a Petrone, pallone per Patera che si gira, prova la conclusione e il tiro, gol di Patera! Che gol amici, che gol! Cambia ancora il punteggio qui allo Stefano Rizzo, ventiquattresimo, c'è una deviazione ma ci ha provato, si è girato e l'ha messa dentro, Patera, attenzione a questo gol, veramente spettacolare!